Questo film è davvero divertente. Sono proprio stanco, lo leggerò senz'altro, neanche Anna l'ha visto, neanche per sogno, forse ci incontreremo domani, quasi quasi mi faccio uno shampoo. All'interno di queste frasi troviamo alcuni avverbi di valutazione, davvero, proprio, senz'altro, neanche, neanche per sogno, forse, quasi quasi. Gli avverbi di valutazione e le vocuzioni avverbiali esprimono il giudizio di chi parla o scrive riguardo a qualcosa e possono essere suddivise in tre gruppi di affermazioni, di negazione e di dubbio. Nella prima categoria abbiamo avverbi come sicuro, certo, indubbiamente, davvero, proprio, di solo, di affermazione. Di sicuro, di certo, senza dubbio, formate, vedete, da più di una parola, sono locuzioni avverbiali di affermazione. Ma noi possiamo trovare anche degli avverbi di valutazione che esprimono una negazione, come per esempio, neanche Anna, vedete, neanche un avverbio di negazione. Oppure abbiamo un avverbio di valutazione, di negazione, di locuzione avverbiale. Quando io dico, per esempio, neanche per sogno farò questo lavoro, neanche per sogno. Abbiamo anche alcuni avverbi di valutazione di dubbio, come per esempio, forse, oppure come per esempio alcune locuzioni avverbiali, quasi quasi mi faccio uno shampoo. Vedete anche il disegno, che vi rende meglio il significato di questa locuzione avverbiale, a pagina 383 del nostro libro.